Allenamento di ripresa per l'Udinese di mister Luigi De Canio che sta lavorando sui campi 2, 3 e 4 per proseguire la marcia di avvicinamento sul Napoli. Una marcia di avvicinamento che in questo martedì ha visto ragazzi riprendere dopo i due giorni di sosta in vista anche di quelle che erano le festività pasquali, oltre che del turno di stop per le nazionali, un momento in cui De Canio ha voluto subito rimettere il gruppo in temperatura con esercitazioni che vanno già più nel dettaglio di quella che è la tattica. In questo pomeriggio che tra l'altro sarà anche l'unico di allenamenti per questa settimana, visto che da domani si comincerà ad allenarsi alle 12.30, lo stesso orario in cui si giocherà nella domenica nel lunch match contro la formazione di Sarri. Si è lavorato molto sia su quella che è ovviamente la tattica ma anche sulla tecnica individuale, come sempre si lavora tantissimo con il pallone, è un corso che abbiamo iniziato a imparare fin dai primissimi giorni della cura De Canio, un corso che vede lavorare sul campo numero 4 i portieri, o meglio quello che resta, i portieri, visto che sono diversi elementi convocati in nazionale e sempre sul 4 si è allenato anche Totò Di Natale che continua la sua marcia di avvicinamento a una partita sempre un po' speciale per lui. Sul campo numero 2 invece c'era al lavoro Ghierme, uno dei calciatori che purtroppo non è a disposizione ancora del tecnico per quello che riguarda il lavoro del gruppo. Ghierme che sta testando la sua corsa per cercare proprio di tornare a disposizione il prima possibile per cercare di tornare nel novero dei convocabili per una gara che sicuramente rappresenta un momento importante, un turno casalingo nel quale si vuole fare molto bene di fronte al pubblico amico visto che rappresenta un momento chiave per cercare di prendere punti contro una formazione sicuramente molto molto forte da Higuain in giù e poi ovviamente per andare di slancio su quelle che sono le gare successive, gare che sembrano più abbordabili in quella che è la corsa salvezza bianconera.